buon pomeriggio e benvenuti alla nostra conferenza stampa siamo in compagnia del presidente della bce la garda e il vicepresidente de guindos il mio mi chiamo wolfgang's conference vorrei chiedere ai giornalisti di accendere le proprie camere così possiamo vedere i vostri volti prego buongiorno grazie wolfgang buon pomeriggio il vicepresidente e io vogliamo darvi benvenuti alla nostra conferenza stampa il rimbalzo del recupero dell'economia dell'eurozona sta avanzando l'output presto sarà oltre i livelli pre pandemici verso la fine di quest'anno con un 70 per cento di adulti europei completamente vaccinati l'economia ha riaperto e ha dato la possibilità ai consumatori di incrementare la produzione incrementando la nostra immunità nei confronti del covit vuol dire che l'impatto della pandemia è meno severo e la diffusione della variante delta potrebbe rimandare la piena riapertura dell'economia e l'incremento recente dell'inflazione ci si aspetta ad essere temporaneo e le pressioni inflazionistiche rialzo si stanno aumentando solo lentamente l'outlook inflazionistico rispetto alle nostre stime è stato rivisto leggermente al ribasso ma nel medio termine l'inflazione rimarrà sotto il nostro target del 2 per cento le condizioni di finanziamento per le famiglie aziende e il settore pubblico rimangono favorevoli dal nostro ultimo assessment di giugno le condizioni finanziarie sono essenziali per l'economia per poter continuare la propria il proprio recupero la ripresa e di togliere completamente l'impatto negativo della pandemia sull'inflazione considerando il nostro sulla base di una valutazione congiunta delle condizioni di finanziamento e delle prospettive di inflazione il consiglio direttivo ritiene che possono essere mantenute condizioni di finanziamento favorevole con un ritmo degli acquisti netti di attività nel quadro del PEP moderatamente inferiore rispetto ai due trimestri precedenti abbiamo anche confermato le altre misure ovvero il livello dei tassi di interesse di riferimento della BCE le indicazioni prospettiche forward guidance sulla loro probabile evoluzione futura gli acquisti nell'ambito del programma di acquisto di attività PA le politiche di reinvestimento e le operazioni di rifinanziamento a più lungo termine nello specifico siamo pronti a aggiustare tutti i nostri strumenti per assicurarci che l'inflazione si stabilirà nel nostro secondo il nostro target del 2 per cento nel medio termine vorrei dare un po di più dettagli come stiamo vedendo l'outlook economico nel medio termine e soprattutto la nostra valutazione delle condizioni finanziarie parliamo dell'attività economica l'economia ha rimbalzato del 2,2 per cento nel secondo trimestre dell'anno che era ben ben oltre le stime ci stiamo aspettando forte crescita anche nel terzo trimestre il recupero economico il rimbalzo economico e grazie alla campagna vaccinale di grande successo dell'eurozona con la mancanza di restrizione il settore dei servizi sta beneficiando dal ritorno delle persone del turismo e dei turisti sì il settore manifatturiero sta performando forte anche se la produzione continua ad essere rallentata per i colli di bottiglie la variante delta non ha richiesto almeno per il momento nuovi lockdown però potrebbe potrebbe rallentare il rimbalzo dell'economia soprattutto il commercio internazionale e la piena riapertura dell'economia le spese dei consumatori sta aumentando anche se i consumatori rimangono abbastanza cauti considerando la variante delta il mercato del lavoro sta migliorando rapidamente che ci dà un prospetto di più alti salari e più occupazione il tasso di disoccupazione sta diminuendo la maggior parte delle persone ci sono 28 milioni meno di disoccupati rispetto all'anno scorso il recupero a livello domestico e globale sta rafforzando l'ottimismo nei confronti delle aziende che sussiene gli investimenti ma nello stesso tempo rimane un bel po' di strada prima che il danno fatto della pandemia all'economia sia naturalmente ai livelli prepandemici ancora ci sono circa 2 milioni di persone che sono disoccupati soprattutto rispetto ai livelli prepandemici e sono soprattutto i giovani purtroppo gran parte dei settori rimangono scoperti a livello di lavoratori ma per sostenere il recupero dell'economia abbiamo bisogno di una politica fiscale molto forte coordinata insieme a quella monetaria in particolar modo il Next Generation EU aiuterà ad assicurarci un rimbalzo un rafforzamento dell'economia dell'eurozona e accelererà la digitalizzazione la transizione digitale sosterrà le riforme strutturali e aumenterà la crescita dell'eurozona ci aspettiamo che l'economia rimbalzerà fortemente nel breve termine queste sono le nuove proiezioni il PIL lo vediamo al 5% nel 2021 4,6% nel 2022 e 2,1% nel 2023 paragonato alle nostre proiezioni di giugno l'outlook è migliorato per 2022 ed è soprattutto invariato per il 2022 e 2023 l'inflazione è incrementata del 3% ad agosto ci aspettiamo che l'inflazione andrà ancora a rialzo all'autunno ma decrementerà l'anno prossimo questo rafforzamento dell'incremento dell'inflazione soprattutto grazie al prezzo del petrolio già da metà anno scorso e l'IVA tedesca che ha sicuramente rallentato alcune vendite nell'anno del 2021 e soprattutto i colli di bottiglia a cui abbiamo assistito a livello dei prodotti nel corso del 2022 questi fattori dovrebbero ralentare e ci sarà un diverso calcolo di inflazione anno su anno le inflazioni pressionistiche underline sono a rialzo visto che l'economia si sta rafforzando ed è sostenuta delle nostre politiche monetarie ci aspettiamo l'inflazione underline ad incrementare nel medio termine questo incremento è soltanto graduale secondo noi visto che ci vorrà tempo per l'economia di tornare a piene capacità e dunque ci aspettiamo che gli stipendi aumenteranno solo moderatamente le misure di medio termine a livello di inflazione potrebbero incrementare ma sono veramente distanti dal nostro target del 2% le nuove proiezioni del nostro staff prevede inflazione annuale del 2,2% nel 2021 1,7% nel 2022 e 1,5% nel 2023 riviste a rialzo tutti quanti rispetto alle proiezioni di giugno l'inflazione escludendo cibo e energie è proiettata una media dell'1,3% nel 2021 1,4% nel 2022 e 1,5% nel 2023 anche qui abbiamo rivisto a rialzo le nostre proiezioni rispetto a giugno parliamo del nostro risk assessment stiamo vedendo diversi rischi nei confronti dell'outlook economico come abbastanza bilanciati per il momento l'attività economica potrebbe sovraperformare ci sono delle... se i consumatori dovessero diventare più confident e faranno meno risparmi il miglioramento della pandemia potrebbe portare ad un rafforzamento dell'economia rispetto alle nostre aspettative se i colli di bottiglia se le offerte legate al colli di bottiglia continuerà per più tempo allora le pressioni inflazionistiche potrebbero essere più persistenti ma nello stesso tempo l'outlook economico potrebbe deteriorare se la pandemia dovesse peggiorare che potrebbe rallentare le continue riaperture economiche che abbiamo assistito sinora e potrebbe naturalmente rallentare la produzione dunque parliamo anche delle nostre condizioni finanziarie e monetarie il rimbalzo economico dipende dalle condizioni favorevoli finanziarie su tutti i settori i tassi di interesse sono rallentati nell'estate ma stanno aumentando leggermente adesso le condizioni finanziarie rimangono favorevoli i prestiti bancari sono ai minimi storici i prestiti nei confronti delle famiglie stanno aumentando soprattutto per motivi di acquisti di case questo è non così per le aziende questo è perché però le aziende sono ben finanziate grazie ai nostri programmi e soprattutto hanno un bel po' di cash messo da parte che riduce naturalmente il bisogno di prendere funding esterno per quanto riguarda i corporate bonds sono abbastanza interessanti come alternativa per le banche abbiamo dei solidi balance sheets che ci permette di avere dei crediti molto solidi però le famiglie hanno avuto più debiti nel corso della pandemia ovviamente un possibile deterioramento dell'outlook economico potrebbe peggiorare lo standard delle famiglie un sostegno della politica monetaria e anche fiscale rimane sostanziale per aiutare naturalmente le condizioni sia delle famiglie che delle imprese in conclusione l'economia della zona euro sta rimbalzando fortemente questo è chiaro ma il ritmo del recupero continua a dipendere dalla campagna vaccinale e della pandemia l'incremento dell'inflazione sarà transitorio e le pressioni inflazionistiche saranno soltanto graduali questo leggerissimo miglioramento per quanto concerne il nostro outlook nel medio termine i livelli attuali delle condizioni finanziarie ci aiuta di avere condizioni finanziarie e ridurre naturalmente il nostro programma PEP leggermente, moderatamente, inferiore rispetto ai due trimestri precedenti i tassi di interesse e le operazioni di rifinanziamento principali sono estremamente importanti a rimanere ai livelli attuali per sostenere la nostra economia e non solo a sostegno del nostro obiettivo di inflazione simmetrico del 2% in linea con la nostra strategia di politica monetaria siamo pronti per le vostre domande? grazie, oggi la prima domanda va al Tom di Wall Street Journal prego Tom buongiorno e grazie per prendere la mia domanda io avrei due domande la prima era per quanto concerne i vostri acquisti mensili e soprattutto il ritmo alcuni dei vostri membri hanno suggerito che vedono il PEP terminare ben prosto lei cosa risponde a questo? come lo spiega? si può parlare di tapering o come lo state definendo voi? anzi come lo sta definendo lei? e la seconda domanda è perché lei si sente abbastanza confident a fare questo visto che il vostro outlook sull'inflazione del 2023 è ad 1,5% che è ben al di sotto del vostro target dunque ci sono anche tantissimi altri rischi come per esempio la variante Delta e così via come avete deciso di ridurre i vostri stimoli? grazie dunque grazie per le sue domande io vorrei dare un po' di contesto anzi vorrei fare una citazione ciò che stiamo facendo è ricalibrare il nostro PEP che io vorrei ricordarvi è il nostro programma di acquisto per l'emergenza pandemica e dunque lo stiamo ricalibrando esattamente come abbiamo fatto a dicembre e a marzo lo stiamo facendo sulla base di una cornice che comunque è sulla base di una valutazione congiunta delle condizioni di finanziamento e delle prospettive di inflazione e abbiamo deciso che per il momento queste condizioni finanziarie sono favorevoli ma anche all'outlook dell'inflazione ma come lei ha sottolineato il nostro outlook inflazionistico è stato rivisto a rialzo e questo è stato il caso per il 2021, 2022 abbastanza significativamente e non direi lo stesso per il 2023 anzi in una maniera un pochettino più moderata c'è stato un miglioramento per quanto concerne i numeri di inflazione per tutti questi anni sicuramente ci stiamo aspettando un netto miglioramento dei numeri di inflazione nel 2022 e nel 2023 sulla base di questa valutazione congiunta e perché sappiamo che dobbiamo mantenere le condizioni finanziarie favorevoli questo è ciò che abbiamo promesso questo è ciò che abbiamo concordato crediamo che possiamo mantenere queste condizioni finanziarie favorevoli con un ritmo moderatamente inferiore del PEP rispetto ai due trimestri precedenti quindi si tratta comunque di moderatamente inferiore rispetto alla Q2 e Q3 siamo confidenti abbastanza? beh, il nostro incontro di settembre è stato condotto in linea con le nostre proiezioni e ciò che stiamo vedendo attualmente è un forte miglioramento su tutti i fronti i numeri dell'output sono ben più alti l'inflazione più alta è stata rivista a rialzo insieme ai tassi di occupazione dunque anche la situazione con il mercato del lavoro sta migliorando rispetto alle nostre stime grazie naturalmente sempre al successo delle campagne vaccinali dell'Eurozona che è critica per determinare il recupero dell'economia crediamo che l'economia dell'Eurozona sta rimbalzando e questo ci dà la confidence di prendere le misure che abbiamo intrapreso stiamo parlando comunque di una ricalibrazione del nostro PEP per i prossimi tre mesi grazie alla seconda domanda va per il sole 24 ore buongiorno e grazie per l'opportunità è davvero bello vedervi Presidente Lagarde avrei due domande il primo è sulle condizioni finanziarie per quanto tempo continuerà la BCE di preservare le condizioni finanziarie favorevoli soprattutto dopo la crisi del Covid? quando finiranno queste condizioni finanziarie favorevoli? finiranno con il PEP o meno? e seconda domanda sul PEP visto che la crisi di coronavirus sta entrando in una nuova fase la nuova variante Delta c'è però comunque un buon ritmo delle vaccinazioni buon outlook economico potrebbe il Consiglio Direttivo decidere di giudicare o valutare la fine della crisi del Covid grazie la ringrazio è bello vederla è bello vederla anche lei stiamo migliorando a livello tecnologico speriamo che alla prossima occasione ci vedremo face to face sulle domande per quanto riguarda le condizioni finanziarie favorevoli io vorrei ricordarvi che questo era deciso ad un incontro di dicembre del Consiglio Direttivo quindi il PEP è un pacchetto di emergenza disegnato molto specificamente per le circostanze a cui stiamo vivendo ma è chiaro che queste circostanze stanno nettamente migliorando e queste condizioni favorevoli è ovvio che sono due delle parti di questa valutazione congiunta delle condizioni di finanziamento che abbiamo fatto il giorno in cui il PEP sarà terminato indicheremo che le condizioni favorevoli sono favorevoli e molto probabilmente potremmo dire che l'economia avrà recuperato i livelli prepandemici o meglio non ci sarà un impatto della pandemia sul nostro outlook economico beh a questo punto il lavoro non è finito però perché siamo tuttora targettizzando un 2% che chiaramente fa parte della nostra strategy review soprattutto nel medio termine con un focus particolarmente fatto sulla parte bassa quindi questo continuerà i driver del nostro going forward dopo il PEP sarà il mandato che dobbiamo che è mantenere la stabilità dei prezzi e sicuramente raggiungere il nostro target del 2% dei prezzi per quanto riguarda la seconda domanda che riguarda soltanto il PEP in generale ciò che abbiamo fatto oggi con il consiglio direttivo con i membri del consiglio direttivo all'unanimità è di calibrare il nostro ritmo di acquisti per continuare a consegnare a raggiungere i nostri obiettivi non abbiamo discusso cosa segue successivamente e questa è una cosa di cui dobbiamo prepararci nei prossimi mesi sicuramente ci saranno degli argomenti molto più interessanti dopo questa estate ma voi sarete assolutamente sul pezzo non vi preoccupate la prossima domanda va a Bloomberg News Alexander c'è? ci sente? ok abbiamo qualche problema col collegamento eccoci qua grazie per l'opportunità Presidente Lagarda alcuni dei vostri colleghi hanno enfatizzato i rischi inflazionistici a rialzo le pressioni inflazionistici a rialzo ci può dire se questo argomento è condiviso all'interno del consiglio direttivo? e una domanda per quanto riguarda quanto tempo ci vorrà prima che il PEP finirà? ho perso la sua domanda puoi ripetere? quanto tempo darete ai mercati prima di dire che il PEP terminerà? grazie per la prima domanda perché penso di prendere l'occasione di parlare di inflazione di dire tutto ciò che ci siamo detti riguardo l'inflazione perché è un caso in cui in tanti paesi dell'eurozona le persone stanno vedendo un incremento dei prezzi e possono anche sentirlo quindi dobbiamo andare veramente sotto la pelle dell'inflazione prima di valutare se è temporanea se continuerà invece e questo ci porterà verso la conclusione del nostro outlook inflazionistico dell'1,5% nel 2023 attualmente cosa abbiamo? tre fattori che stanno rafforzando l'inflazione i primi sono le riaperture dell'economia questa è la dinamica che naturalmente è stata a ribasso un anno fa adesso a rialzo dunque abbiamo vissuto delle riaperture e dal punto di vista offerta e domanda c'è stato un miglioramento ovvio che c'è un po' di pressione sui prezzi questi sono gli effetti base con per esempio i prezzi dell'energia che è un grande componente di questi effetti base legati all'inflazione potete vedere che l'IVA tedesca anzi l'impatto dell'IVA tedesco dell'IVA tedesca continuerà ad avere un impatto fino a fine anno abbiamo visto anche un carbon tax che è stata decisa in Germania quindi questi sono effetti base che sono legati comunque alle riaperture dell'economia come parte di queste pressioni effetti base scusate vorrei aggiungere naturalmente i colli di bottiglia che sicuramente ci hanno messo in difficoltà questi effetti non fanno parte solo del settore dei semiconduttori ma un po' su tutti i settori che sono più o meno impattati da questo equipaggiamento di materie prime e quindi questo sì che ha un impatto sui durable e non durable beni sui beni durevoli e non durevoli quindi l'impatto di lungo termine è ovvio che rimane ancora non chiaro cioè vedremo quello che accadrà noi abbiamo cercato di cercare di come dire rendere la situazione un po' più facile sotto questo punto di vista abbiamo scritto anche nel nostro comunicato stampa se questi colli di bottiglia continueranno per un po' di più tempo rispetto a ciò che ci aspettiamo sicuramente ci sarà un incremento dei prezzi senza alcun dubbio cioè ci sarà un pressione inflazionese che rialzo però non siamo certi perché tipicamente ciò che abbiamo visto nelle situazioni precedenti sa quando avete colli di bottiglia a livello di offerta stiamo cercando di trovare alternative di questi prodotti di questi beni che mancano e quindi così l'inflazione pian piano inizia a rallentare questi colli di bottiglia sull'inflazione non vuol dire che ci sarà un secondo impatto soprattutto sugli stipendi invece il secondo punto naturalmente era le riaperture dell'economia quindi il terzo punto è soprattutto quando abbiamo questa disaggregazione relativa tra inflazione e il settore dei servizi perché abbiamo cercato di rafforzare l'economia soprattutto il settore dei servizi quindi bisogna vedere anche come va l'inflazione in questo settore dei servizi e quali sono ovviamente ci sono stati i soggetti di social distancing che sicuramente hanno sono tornati alla carica e quindi questi sono i tre fattori principali sicuramente noi li vediamo in natura temporanea sicuramente e questi effetti spareranno nel corso del tempo un componente che stiamo monitorando molto attentamente è il secondo effetto ovvero quale sarebbe l'impatto delle persone inflazionistiche sugli stipendi sui salari questo potrebbe esserci un pochettino più persistente e più preoccupante a livello di inflazione sul fronte dei salari non stiamo vedendo un incremento significativo saremo molto attenti a vedere le negoziazioni che tipicamente accadono in diversi paesi ma a questo punto non ci aspettiamo un incremento degli stipendi, dei salari o meglio non ci aspettiamo un incremento forte stiamo vedendo comunque un incremento graduale come risultato di ciò quindi questo è esattamente ciò che volevo provare a spiegare come risposta alla sua domanda sull'inflazione per quanto riguarda il PEP questa è una discussione che indirizzeremo in maniera comprensiva nel nostro incontro di dicembre visto che il termine del PEP approcerà a questo punto ovviamente discuteremo i termini, le condizioni come questi termini appaiono quindi sicuramente avremo modo di approfondire questo argomento al nostro incontro di dicembre grazie la prossima domanda è da Netta Weisbach di CNBC grazie per prendere le mie domande e per darmi l'opportunità Presidente Lagarde alcuni analisti non sono così ottimisti per quanto c'è nella crescita del 2022 e 2023 cosa vi rende così ottimisti ecco? avete anche indirizzato anzi avete parlato della possibile stagflazione dell'Eurozona visto che comunque questo fattore dell'Eurozona potrebbe essere più persistente sulla prima domanda che riguarda quanto fiduciosi siamo sin dall'inizio abbiamo iniziato a rivedere le nostre proiezioni e abbiamo visto due punti molto negativi inizialmente pessimisti scusate gli analisti sono particolarmente attenti alle proiezioni che sono prodotte dallo staff e proiezioni come altre istituzioni internazionali come le FMI con Fondo Monetario Internazionale o ICD ovvero l'Ocse quindi l'economia continuerà a beneficiare da queste misure che sono state rallentate o meglio non ci sono più le chiusure lockdown e così via quindi ovvio che abbiamo immaginato che questi colli di bottiglia saranno terminati nella prima metà del 2022 perché naturalmente ci saremo ai livelli prepandemici prepandemici del 2019 alla fine di quest'anno e non nel primo trimestre dell'anno prossimo rispetto a questo è una differenza importante rispetto alle nostre proiezioni precedenti e anche per quanto concerne la disoccupazione anche qua stiamo vedendo un netto miglioramento quindi sì sono questi i motivi che ci danno la fiducia per pensare che il 2021 sarà un anno molto positivo non abbiamo rivisto il nostro forecast per il 2022 perché naturalmente ci sono tantissime cose da considerare ancora ovviamente la pandemia si sta risolvendo più velocemente perché naturalmente c'è una campagna vaccinale di grande successo ci sarà presto anche il cosiddetto booster shot ovvero terza dose che ci potrà aiutare ancora di più questo sì che sosterà i consumi ci saranno questi grandissimi e un driver anzi economico perché ci sono tantissimi risparmi accumulati in questi tempi di pandemia quindi speriamo che comunque apriranno un pochettino le tasche i diversi consumatori per quanto riguarda invece i rischi a ribasso possiamo avere un purtroppo fa parte dei rischi ecco questa variante delta magari un possibile non buon funzionamento delle campagne vaccinali come anche i colli di bottiglia di cui abbiamo parlato che potrebbero continuare per un bel po' di tempo e potrebbero avere effetti i cosiddetti effetti collaterali sull'inflazione in particolar modo e potrebbe avere un impatto negativo sul PIL alla fine dell'anno allora per quanto riguarda la stagflazione il nostro mandato principale è la stabilità del prezzo siamo però anche vogliamo vedere un'economia che si è ripresa pienamente anche a livello di occupazione dovrebbero essere creati nuovi posti di lavoro dobbiamo vedere nuovi posti di lavoro dobbiamo vedere comunque più contratti a tempo indeterminato ci sono due milioni di persone che tuttora non hanno lavoro rispetto sempre parliamo rispetto sempre 2019 ovvero i tempi prepandemici quindi queste sono le nostre risposte per quanto concerne se queste sono le risposte per quanto concerne il recupero economico non ci preoccupiamo di una stagflazione la prossima domanda va a Martin Martin prego abbiamo qualche problema con l'audio ciao madame Lagarde mi puoi sentire? dunque avrei due domande prima la prima è il suo capo economista Philip Lane ha detto che gli acquisti che farete a livello mensile dopo la fine del PEP dipenderà dalla situazione dei singoli governi lei è d'accordo? è vero che quando finiranno i vostri aiuti tipo PEP, APP e così via poi ci sarà anche un rialzo dei tassi di interesse o meno non c'è una correlazione dunque grazie a Martin per le domande anzi grazie per avermi dato la possibilità perché voglio ripetere questo punto perché credo che sia una conseguenza molto importante del nostro ultimo incontro di luglio i tre criteri che sono importanti sulla nostra forward guidance i tassi di interesse è stata rivista chiarita dai tre criteri di cui abbiamo parlato più volte abbiamo bisogno di vedere inflazione outlook inflazionistico sul nostro target che è il 2% ben prima la fine del nostro orizzonte e secondo dobbiamo vederlo verso alla fine dell'orizzonte dell'orizzonte delle proiezioni e dovrebbero esserci anche degli elementi sufficienti per poter corrispondere rispondere all'inflazione underlying quindi abbiamo bisogno di questi elementi che rimanessero intatti per poter decidere quale sarebbe la sequenza degli eventi dagli acquisti di titoli di Stato a tassi di interesse a rialzo dei tassi di interesse ma onestamente le dico credo che siamo molto lontani da questo punto anzi mi sono contenta di ricordarvi che PEP è un programma molto specifico misurato soltanto per la pandemia ha un carattere di emergenza quando il PEP finirà allora chiaramente avremo tantissimi altri strumenti a disposizione insieme il cosiddetto PAA il programma di acquisto di attività è stato lanciato ancora ad ottobre 2019 quindi ben prima della pandemia e questo programma rimarrà ancora a lungo sarà dibattuto ancora a lungo quindi è un po' prematuro parlare soprattutto del nostro programma di acquisto di attività che non c'entra col PEP ovviamente per determinare il ritmo degli acquisti stiamo detenendo un universo di bonds stiamo guardando l'intero universo di bonds di titoli di stato e questo è come determiniamo dove ordinare e soprattutto dove e come sarà il ritmo degli acquisti sono due cose sono due cose importanti sulla nostra valutazione congiunta condizioni di finanziamento e prospettive di inflazione grazie la prossima domanda va a un quotidiano spagnolo prego buongiorno mi sentite? si la sentiamo perfettamente avrei allora avrei due domande lei ha detto che la ricalibrazione del PEP che avete deciso era l'unanimità e la seconda domanda è dopo le operazioni dopo questo mese pensate di ritoccare anche gli altri programmi come per esempio Teltro che cosa ne pensate ecco su questi finanziamenti nei confronti delle banche di lungo termine allora per quanto riguarda la decisione di oggi come detto è stata all'unanimità e quindi sotto tutti i punti di vista quindi il ritmo di ricalibrazione è stato accordato moderatamente inferiore rispetto ai due o tre mesi precedenti ed è stato assolutamente all'unanimità quindi mi dispiace per quelli che gli piace fare Falchi versus Colombe qua siamo stati all'unanimità e siamo tutti d'accordo per quanto riguarda il Teltro ci sarà un'altra operazione a dicembre come lei ha detto e quindi chiaramente dovremo discutere che cosa accadrà poi dopo sulla base della situazione e questo farà parte della nostra riesaminazione esaminazione che condurremo durante il nostro incontro a dicembre quindi sarà come sempre data dependent ovvero basato sui numeri che state vedendo su tutte le agende che stiamo facendo su tutti i sondaggi soprattutto il comparto bancario che stato sarà è così il Teltro sono stati fondamentali per le banche per il finanziamento delle banche e loro hanno preso prestiti in continuazione nel corso degli ultimi due anni la prossima domanda va per un emittente greca prego mi sentite? si la sentiamo molto bene allora dunque dopo questa decisione di ricalibrare il PEP avrà un impatto sicuramente sui bond grechi lì che cosa ci può dire su questo punto di vista? guardi credo che sia troppo presto e non necessario a pensare di questioni di lungo termine per quanto riguarda il PEP perché questo verrà discusso come detto nelle prossime nelle prossime riunioni dopo una revisione tecnica nel dettaglio e ovviamente prenderemo in considerazione tantissime di queste questioni quindi per il momento non è necessario grazie una domanda per da Reuters buon pomeriggio la prima domanda riguarda l'inflazione crede che il bilancio riguardo l'equilibrio riguardo i rischi adesso è piuttosto al rialzo per quanto concerne l'inflazione e la seconda domanda è tanti dei suoi colleghi hanno firmato lettere per spingere per spingere con la commissione di usare diversi accordi per le diverse banche lei sostiene ecco questa attività dei suoi colleghi guardi non si preoccupi signor Canepa non c'è nulla di strano che il mio nome non c'è stato sulla lettera Andrea Henry è la persona che ha la piena autorità per poter approcciare questo argomento del Basel Basilea 3 queste discussioni che riguardano la Basilea 3 l'accordo di Basilea 3 sono estremamente importanti per me seguo con tantissima attenzione gli sviluppi e credo che ci deve essere un compliance molto appropriata per quanto concerne la Basilea 3 ma anzi a questo punto vorrei dare la parola al mio collega e amico il vicepresidente che è molto sul pezzo sotto questo punto di vista allora per quanto riguarda la prima domanda vorrei fare una citazione abbiamo deciso all'unanimità per quanto riguarda il nostro risk assessment se i colli di bottiglia dovessero continuare a lungo termine e se ci dovesse essere un non anticipato rialzo degli stipendi allora i prezzi inflazionisti che saranno trasditori non so come essere più chiara invece io non ho tanto da aggiungere la lettera la lettera era firmata da Andrea Enria anche da parte me da parte mia dunque credo che tutto sia pienamente chiaro nel senso noi ci stiamo basando sulla piena implementazione del Basilea 3 e quindi tutti e tre stiamo cercando di naturalmente rispettare la piena implementazione che ci porterà tantissimi benefici in particolar modo per le banche e per l'economia la prossima domanda la prossima domanda va a politico mi sentite? grazie per prendere la mia domanda quando avete parlato del PEP a dicembre il outlook economico sarà ai livelli pre pandemici amici sarà questa una condizione sufficiente per porre la fine dell'emergenza covid? cosa faremo cosa? allora cosa farete al vostro incontro di novembre visto che tutto il focus rimane sul dicembre no guardi la voglio correggere il nostro prossimo incontro sarà ad ottobre non a novembre ma dunque ci incontreremo sul tavolo chiacchiereremo per quanto riguarda la situazione di politica monetaria perché nessun consiglio direttivo va senza il nostro incontro quindi faremo tantissima attenzione sulla sull'efficienza delle nostre misure quindi lei non si deve preoccupare anche ad ottobre avremo tanto di cui parlare tanto di tanto di da comunicare ma come detto l'incontro importante qui parleremo delle condizioni del PEP quando finirà il PEP sarà l'incontro di dicembre allora dunque nel nostro incontro di dicembre ci saranno due fatti molto importanti le nostre previsioni saranno consegnate e cioè dunque saremo ai livelli prepandemici del 2019 il che vuol dire che non sarà naturalmente un trend di crescita sufficiente perché siamo ancora lontani e avremo nuove proiezioni che ci che ci daranno proiezioni non per il 2023 ma per il 2024 quindi avremo un po' di più sostanze per poter decidere capire analizzare e discutere le condizioni del PEP grazie la prossima domanda va a Milano Finanza Francesco Ninfole prego Francesco grazie e buon pomeriggio vorrei farle due domande allora state sentendo qualche pressione da parte degli Stati Uniti in particolar modo dalla Fed la seconda domanda riguarda la politica fiscale come sarà la politica fiscale a livello europeo secondo lei nei prossimi mesi? cioè ci sarà questo sostegno dell'economia con un ritmo non certo o meno? dunque grazie per le sue domande io vorrei fare un recap iniziare con la seconda domanda vorrei dire che nel corso di questa crisi la politica fiscale e la politica monetaria si sono rafforzati insieme e il sostegno fiscale è stato esteso su tutti i nostri mesi. tutte le economie della zona euro ed è stato di un'importanza critica è incrementato rispetto alle nostre proiezioni se diamo uno sguardo alle nostre proiezioni di dicembre dell'anno scorso e se diamo naturalmente un'occhiata all'impulso fiscale a cui stiamo assistendo adesso è quasi raddoppiato nel senso le politiche fiscali sono estremamente importanti. tanti hanno sostenuto le politiche monetarie ma non solo le hanno resi anche complementari. le nostre valutazioni sono le seguenti che il sostegno fiscale dovrebbe continuare come detto in altre occasioni non è più questo sostegno massiccio veramente urgente come era il caso all'inizio della crisi. dovrebbe essere un po' più targetizzato un po' più preciso associato con le riforme strutturali che sono fondamentali per i diversi paesi sono necessari in particolar modo per alcuni paesi dell'eurozona. questo naturalmente rispecchia il next generation EU i finanziamenti sono stati importanti e speriamo naturalmente che questi finanziamenti continuino per trimestri e anni ad avvenire e potrebbe naturalmente di conseguenza facilitare il rimbalzo economico e ridurre le divergenze tra i diversi paesi. dunque verrà un momento in cui questo sostegno fiscale dovrà essere ritirato gradualmente ovviamente ed è chiaro che gli europei si devono dare un certo timing e dovrebbero rivedere il patto di stabilità. ovvio che questo momento arriverà ma per il momento a mio avviso è un po' prematuro e penso anche che gran parte dei buoni risultati che abbiamo visto dall'economia hanno a che fare con politiche monetarie e ci dobbiamo prendere il credito sotto questo punto di vista penso che comunque siamo ad un livello molto avanzato i progressi sono importanti ma non ci siamo ancora non siamo ancora fuori pericolo non siamo ancora sul verde apprezzeranno questa frase i giocatori di golf. grazie la prossima domanda va a market news international grazie per prendere la mia domanda allora avrei anche io due domande se posso la prima è se il consiglio direttivo ha discusso un possibile impatto dopo le elezioni in germania e la seconda ci sono cinque anni per i vostri break even inflazionistici c'è un incremento quasi dei 50 punti base qual è la sua percezione per quanto concerne la politica della bce da qui in avanti la risposta della prima domanda è no abbiamo tanto di cui parlare quindi le elezioni tedesche non sono state un argomento per il momento il 5 e 5 anni ovvero 1,7 per cento è un numero molto elevato su cui facciamo tantissima attenzione e a tutte le previsioni a tutte le agende tutti i sondaggi ci sono tantissimi numeri su cui stiamo guardando e che stiamo valutando dobbiamo essere assolutamente data dependent non siamo schiavi dei dati ma siamo data dependent che è una cosa molto molto diversa c'è un range molto importante di questi dati per essere certi che non è solo una cosa direzionale e sicuramente guardiamo a cinque anni cinque anni ma sicuramente non è una cosa che ci preoccupa l'ultima domanda va ad Associated Press David prego la parola a lei ci sente allora abbiamo problemi con la connessione dunque l'ultima domanda va a Victor Mendez la mia prima domanda è sui limiti che la BCE si sta ponendo soprattutto per quanto riguarda il PAA è vero che il vostro possesso di obbligazioni è enorme però quale sarebbe il vostro capital key limite? state vedendo avete qualche update la mia seconda domanda avete qualche update sull'impatto della pandemia sui paesi che hanno altissimo livello di debito e come li state sostenendo? ok allora sulla prima domanda grazie ma queste sono questioni che verranno discusse a dicembre quindi non è una questione di discussione adesso e quali sono esattamente i limiti del nostro capital keys tutto ciò che so è che noi abbiamo un mandato abbiamo degli obiettivi e target che devono essere raggiunti e perciò stiamo usando tutti i nostri strumenti che abbiamo a disponibilità quindi i termini e le condizioni dei nostri dei nostri pacchetti di aiuto verranno aggiustati se questo sarà necessario sull'altro punto ciò che ho visto è che queste nazioni che sono più impattate della pandemia che sono maggiormente paesi dell'Europa del Sud stanno beneficiando di un grosso volume di prestiti e soldi a fondo perduto e quindi questo dovrebbe sicuramente aiutarli in maniera molto importante quindi sicuramente quando implementeranno tutte le riforme avranno tutti i finanziamenti di conseguenza sicuramente potranno rispondere a gran parte dei danni che sono stati creati bisogna fare tantissima attenzione nel settore della hospitality e per il momento stiamo vedendo le nostre proiezioni in forte miglioramento grazie mille così si conclude la nostra conferenza stampa se avete bisogno ci rivedremo di nuovo il 28 di ottobre grazie grazie Grazie.